Buongiorno a tutte e tutti, do il benvenuto e benvenuti al centotraesimo Next Launch Seminar che oggi ha come ospite Fabiana Vinci che laurea in Data Science and Engineering con una tesi di laurea che è proprio l'oggetto del seminario di oggi su cui vorrei spendere due parole di introduzione in più questo argomento è stato scelto dopo un'antenta fase di esplorazione degli interessi di Fabiana e di quelli del Centronezza e della letteratura critica attorno al riconoscimento facciale una tecnologia che è molto discussa, molto controversa che non abbiamo mai dato per scontato durante la fase di iniziale di ideazione dello studio ricordo ad esempio il divieto di usare riconoscimento facciale in spazi pubblici nella città di San Francisco la moratoria in corso nell'Unione Europea eccetera quindi proprio testimoniare il fatto che su questa tecnologia dovrebbero esserci dei dibattiti proprio sull'esistenza stessa della tecnologia ad ogni modo riconoscendo la presenza nel mercato e in moltissime istituzioni anche l'uso di questa tecnologia ci siamo posti una domanda che era rivolta più verso le fasce di popolazione più vulnerabili ce ne sono diversi gruppi, ne è stato scelto uno specifico per questa tesi e ve lo racconterà a brevissimo Fabiana vedo molte persone collegate e quindi fa piacere perché c'è interesse nell'argomento la tesi è stata, vi anticipo che la tesi è stata secretata perché le immagini che sono state scelte, sono state usate per la sperimentazione non hanno ottenuto il consenso di chi era rappresentato nell'immagine principalmente perché è impossibilitato a darlo e per questo motivo abbiamo deciso di non rendere disponibile la tesi per correttezza e per la questione etica e anche normativa nei confronti di coloro che si potrebbero veder riconosciuti nella tesi tuttavia la metodologia e i risultati di questo lavoro oltre che saranno disponibili in forma di registrazione di questo incontro probabilmente saranno disponibili anche sotto forma di pubblicazione scientifica che stiamo preparando. Detto questo io ringrazio anticipatamente Fabiana per aver dato la disponibilità a presentarci sul lavoro ringrazio chi è presente fisicamente oggi e i tanti collegati da remoto e lascio la parola a Fabiana per il suo live seminar Grazie, innanzitutto vi ringrazio per avermi dato questa possibilità appunto di esporre il mio lavoro oggi vi parlerò appunto del lavoro che ho fatto nell'ultimo semestre che riguarda il riconoscimento facciale, un'analisi delle sue criticità ma anche di alcune casistiche che non vengono considerate nella fase di creazione sia della tecnologia ma sia dei dati appunto che vengono utilizzati per alimentare gli algoritmi Innanzitutto il riconoscimento facciale è un'applicazione dell'intelligenza artificiale che viene utilizzata per identificare le persone attraverso l'utilizzo di dati biometrici Come funziona questa tecnologia? Possiamo dividere il suo funzionamento appunto in tre step che sono quello del riconoscimento del volto umano in un'immagine o in un video l'estrazione delle caratteristiche del viso che possiamo vedere in questa immagine ad esempio i puntini sul volto, intorno agli occhi, al naso, alla bocca e con questi punti appunto si viene a creare una impronta facciale di ogni persona questa impronta, come se fosse un'impronta digitale, viene confrontata poi con tutte le impronte imparate dall'algoritmo per il riconoscimento effettivo della persona Tra queste features appunto abbiamo, ce ne sono di diversi tipi Per dare un'idea più pratica, ora vi mostrerò un esempio di file di output di uno degli algoritmi che è stato utilizzato durante l'analisi in cui appunto ci sono, possiamo vedere sulla destra i landmarks questi qui che sono esattamente le features di cui parlavo prima quindi i left, i right, mouth left, mouth right con le rispettive coordinate x e y Altri tipi di features sono le emozioni che vengono riconosciute ogni tipologia di emozione, quindi ad esempio happy ha un livello di confidence, quindi la probabilità di ritrovare all'interno del, sul volto della persona rappresentata in figura quella tipologia di emozione Le altre caratteristiche invece che andremo ad analizzare nell'analisi sono il range di età e il gender sempre accompagnato da un livello di confidence Per avere un'idea un po' più pratica appunto proprio dell'interfaccia degli algoritmi utilizzati nell'analisi ci sono due esempi che sono quello di AWS che è uno appunto dei modelli utilizzati dove appunto vediamo c'è l'immagine della persona caratterizzata con intorno un box che appunto definisce il volto riconosciuto dall'algoritmo sulla destra invece possiamo notare tutte le etichette che l'algoritmo produce e quindi ad esempio abbiamo looks like a face, appears to be female eccetera ma tutte queste etichette appunto le devo ad analizzare successivamente l'altro servizio invece utilizzato è quello di Clarify che appare essere molto simile a quello di prima in cui sempre sulla destra ritroviamo queste etichette con il loro rispettivo livello di confidence che appunto andremo ad analizzare meglio successivamente Per quanto riguarda in sé la tecnologia del riconoscimento facciale diciamo che negli ultimi anni ci sono stati molti studi che hanno evidenziato le criticità della tecnologia stessa e ci sono anche diversi esempi uno dei più importanti è quello appunto di una ricercatrice dell'MIT che durante un progetto che era stato assegnato che prevedeva appunto l'utilizzo di un algoritmo di riconoscimento facciale non riusciva a utilizzare questa tecnologia perché il computer appunto non la riconosceva chiedendo aiuto diciamo ad altri colleghi si accorse che i colleghi venivano riconosciuti mentre lei no e poi utilizzando invece una maschera bianca la macchina è riuscita a riconoscerla e quindi di qui è nato tutto uno studio da parte della ricercatrice chiamato Gender Shades in cui appunto analizza la presenza di immagini di persone di colore all'interno dei dataset che vengono utilizzati per il training di questi algoritmi un altro caso importante è quello di un lavoratore del servizio di Uber di taxi che appunto prevede il riconoscimento dei tassisti attraverso un selfie durante lo svolgimento appunto di una giornata lavorativa e questa persona però aveva quando appunto ha fatto questo selfie non è stata riconoscita dall'algoritmo in quanto era durante un periodo di transizione di genere e quindi è stato sospeso dalla sua attività lavorativa non ha potuto lavorare per molto tempo l'ultimo dei casi più importanti anche di miti cronaca è quello invece dell'utilizzo del riconoscimento facciale in dittature soprattutto a discapito delle donne in particolare le donne iraniane che appunto questo riconoscimento facciale viene utilizzato per identificarle nel caso in cui non stessero utilizzando bene il burka e quindi nella maniera corretta con delle conseguenze comunque anche brutali quindi esistono diverse criticità collegate al riconoscimento facciale ma ci sono anche delle casistiche che non vengono considerate nella creazione appunto dei data set della tecnologia uno di questo appunto è proprio il tema della disabilità negli ultimi anni si è parlato molto di rendere le pagine web ma anche i contenuti dei social media più accessibili alle persone con disabilità proprio per includerle maggiormente in particolare nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite basata appunto sui diritti delle persone con disabilità si è parlato di come alcuni software di riconoscimento facciale potessero non funzionare bene con le persone che hanno appunto delle differenze a livello facciale di caratteristiche della faccia e uno di questi è proprio il caso delle persone con sindrome di Down infatti durante questa ricerca appunto abbiamo deciso di utilizzare come experimental group proprio persone con sindrome di Down e quindi utilizzare immagini di persone con sindrome di Down le domande di ricerca di questo lavoro di tesi si focalizzano su tre delle caratteristiche più importanti che vengono predette da questi algoritmi che sono in genere l'età e delle etichette generali che vengono assegnate alle immagini e quindi ci si chiede se ci sia una differenza di predizione di genere di età per le persone con sindrome di Down rispetto alle persone senza alcuna sindrome ma anche una differenza riguardante alcuni algoritmi che appunto producono delle etichette generali correlate alle immagini se ci sia appunto una differenza tra quelle tra le immagini che ritraggono persone con sindrome di Down o meno il primo step della ricerca è stato appunto quello di costruire un dataset questo dataset è diviso in due parti abbiamo la parte dell'experimental group che è composta da 200 immagini che appunto sono tutte quante immagini di donne e di uomini con sindrome di Down e poi invece questa parte del dataset è stata costruita prendendo delle immagini su internet quindi con la tecnica del web scraping e appunto sono state prese 100 immagini per le donne e 100 immagini per gli uomini in un range di età che va dai 0 ai 55 anni considerando che l'aspettativa di vita attuale di persone con sindrome di Down è di 65 anni per quanto riguarda invece il control group sono state prese 200 immagini 100 di donne e 100 di uomini da un dataset famoso che è il UTK Face Dataset che ha principalmente immagini di persone famose e sono state scelte immagini con qualità alta in totale quindi il dataset è composto da 400 immagini e bisogna specificare che questo dataset appunto viene utilizzato come test quindi viene utilizzato per testare degli algoritmi la scelta degli algoritmi è ricaduta su algoritmi proposti da due servizi che sono quelli di AWS e di Black Clarify che hanno appunto dei modelli differenti per ogni predizione quindi abbiamo AWS fornisce tre modelli diversi due modelli diversi che sono Detect Face e Detect Label Detect Face predice sia il genere che l'età per quanto riguarda il genere gli output sono di female e male mentre per quanto riguarda l'età non ci sono dei range predefiniti di età in cui avviene la predizione ma i range sono appunto dati in maniera casuale per quanto riguarda invece le label l'algoritmo è trainato su 3000 diverse label e per l'analisi sono state scelte soltanto le prime eventi con un livello di confidence più alto per quanto riguarda invece Clarify ci sono tre modelli differenti per il genere, l'età e per le label e gli output sono anche diversi abbiamo appunto feminine e masculine i range di età sono predefiniti e le label invece su cui sono stati trainati gli algoritmi sono 10.000 labels quindi appunto questi sono algoritmi che sono stati preteninati e la ricerca si basa su una fase soltanto di testing con il dataset creato per quanto riguarda i risultati abbiamo appunto dei risultati diversi tra l'experimental group e il control group per quanto riguarda gender recognition in particolare se andiamo ad osservare i livelli di accuracy dell'experimental group per Clarify che è del 91% e di AWS che è del 93% se li confrontiamo con quelli invece del control group che sono del 98% e del 97% c'è una differenza notevole in particolare se notiamo questo grafico soltanto 85 immagini su 100 dell'experimental group male sono state predette in maniera corretta per quanto riguarda appunto il genere rispetto appunto alle 97 del control group che appunto sono le immagini di persone senza alcune sindrome che sono state predette in maniera corretta e lo stesso troviamo nei risultati di AWS che comunque predice 85 immagini in maniera corretta rispetto alle 94 del control group successivamente è stata fatta anche un'analisi più specifica in quanto una delle regole appunto delle raccomandazioni di uno dei due algoritmi che è quello di AWS appunto raccomanda di utilizzare una soglia di livello di confidence maggiore o uguale al 99% quando si tratta di classificazioni appunto che potrebbero avere un impatto negativo sui soggetti rappresentati nell'immagine quindi appunto è stata fatta un'analisi sul livello, sul valore della confidence di ogni predizione e per quanto riguarda clarify sempre soffermandoci sui risultati che abbiamo ottenuto prima quindi sull'experimental group male che era quello che aveva dei livelli di accuracy più bassi possiamo notare che la prima parte della barra che appunto è quella che sta a rappresentare le immagini che hanno un livello di confidence maggiore o uguale a 99% è del 60% quindi soltanto il 60% di tutte le immagini ha una predizione corretta del genere con un livello di confidence maggiore o uguale al 99% e qui possiamo anche notare che invece questa parte del grafico che rappresenta le predizioni che vengono fatte in maniera non corretta le parti diciamo più scure sono quelle che rappresentano le predizioni che vengono fatte in maniera scorretta ma con un livello di confidence anche molto alto questo vuol dire che sono state predette più immagini di uomini con sindrome di Down con etichetta di donne con un livello di confidence molto alto che va dagli 89% al 100% e lo stesso risultato lo otteniamo anche nell'algoritmo di AWS che appunto ha anche se la percentuale diciamo di immagini con un livello di confidence maggiore del 99% è leggermente più alta comunque rimane più bassa rispetto a tutte le altre e simile a quella dell'altro modello in generale come risultati finali possiamo vedere che quelli che sono diciamo i più importanti sono quelli relativi all'experimental group che hanno appunto un livello di correttezza del 66% rispetto a quello del 90% del control group per l'algoritmo di AWS è di 60% a confronto del 75% per quelli di Clarify per quanto riguarda invece le predizioni dell'età che sono state fatte con altri algoritmi in generale bisogna dire che le predizioni di età non sono svolte in maniera corretta da entrambi gli algoritmi che hanno comunque delle percentuali molto basse intorno al 50% sia per l'experimental group che per il control group qui l'analisi che è stata fatta è quella di creare appunto queste tabelle di vedità con il range di età forniti da Clarify e ciò che risulta essere una considerazione importante è che ci sono delle immagini di persone che hanno un'età tra i 30 e i 39 anni che sono state predette con un range di età tra i 3 e i 9 anni ma anche con un range di età tra i 10 e i 19 anni la stessa cosa è per un'immagine di una persona che ha tra i 40 e i 49 anni che è stata predetta con un range di età tra i 10 e i 19 anni questa situazione non si verifica nel control group dove ci sono degli errori per range di età più alti ma non abbiamo il confronto con l'experimental group appunto proprio per la creazione del dataset che finisce ad un range di età di 55 anni questa situazione si verifica anche con l'altro algoritmo che è quello di AWS infatti qui possiamo notare che c'è un'immagine di una persona che ha realmente 30-39 anni che sta predetta con un range di 3 tra i 3 e i 9 ma anche due immagini predette con un range tra i 10 e i 9 anni per quanto riguarda invece i risultati ottenuti da la la predizione di etichette degli algoritmi dobbiamo fare delle precisazioni iniziali in quanto i due modelli forniti appunto dal servizio di AWS e di Clarify sono molto diversi perché AWS ha delle label che sono divise in delle categorie predefinite e sono 40 diverse categorie abbiamo la categoria ad esempio di Education Hobbits and Interest Profession eccetera e l'unica che andremo ad analizzare in questa analisi è quella di Person Description per quanto riguarda Clarify invece non c'è una divisione di categorie ma appunto queste sono state create durante l'analisi a seconda del topic appunto di appartenenza delle varie label e quindi sono state create tre diverse categorie che sono Aesthetics Education e Person Description che contiene appunto le stesse label di quella di AWS se andiamo però a notare un po' più nel dettaglio queste figure che appunto rappresentano le label che sono state maggiormente utilizzate per etichettare le immagini del dataset possiamo notare una differenza tra le etichette appunto di AWS e di Clarify qui che le etichette di AWS sono più descrittive infatti abbiamo Portrait Head Face Person poi abbiamo Clothing Glasses eccetera mentre quelle di Clarify invece a volte risultano essere anche un po' più soggettive in quanto hanno degli aggettivi al loro interno collegati alle persone se vediamo qui c'è Fine Looking Pretty Cute Sexy quindi per questo si è posta la maggiore attenzione sulle etichette prodotte appunto dall'algoritmo di Clarify andando a vedere i risultati inizialmente è stata fatta una divisione tra un confronto tra le etichette associate all'Experimental Group e quindi alle persone con sindrome di Down e il Control Group la prima categoria è quella di Aesthetics e le label sono Beautiful Cute Fine Looking Pretty and Sexy la considerazione generale da fare è che molte più etichette della categoria appunto di Aesthetics sono associate all'Experimental Group rispetto al Control Group ma maggiori risultati diciamo li troviamo successivamente quando andremo a fare una distinzione anche dei generi e quindi divideremo l'Experimental Group in Experimental Group Female e Male e Control Group Male e Female per quanto riguarda la categoria Education le label scelte appunto sono Education Intelligence and Business qui possiamo vedere che sono state associate maggiormente le etichette di Education e di Intelligent all'Experimental Group mentre quella di Business al Control Group l'altra categoria appunto di label è quella di Person Description che ha delle label adult, child, boy, girl man, woman person, people se andiamo a porre la nostra attenzione su queste due label quindi adult and child possiamo avere anche una conferma di quanto trovato dai risultati della predizione di età in quanto appunto molte più label molte più volte è associata l'etichetta adult al Control Group rispetto all'Experimental Group e la situazione opposta invece risulta per la label di child che quindi è associata maggiormente all'Experimental Group che al Control Group per quanto riguarda invece le altre label appunto andremo ad analizzarle meglio successivamente la stessa categoria di label era anche prodotta da IWS e qui possiamo trovare rispetto a quello detto prima la stessa situazione per quanto riguarda le label adult and child appunto è stata fatta un'ulteriore analisi dividendo gruppi per generi in modo tale da vedere quali fossero i risultati se ci fossero anche le differenze di genere ripartendo dalla categoria aesthetics dell'algoritmo di Clarify possiamo notare come a colpo d'occhio molte più volte vengono associate le label della categoria appunto aesthetics alle donne in generale che agli uomini infatti appunto proprio queste barre celeste chiaro e verde chiaro sono quelle che rappresentano i gruppi experimental group female e il control group female e in totale se andiamo a contare il numero di label vengono assegnate alle donne 316 label contro le 135 degli uomini in particolare la label sexy non viene associata mai a degli uomini in quanto queste uniche due che sono dell'experimental group male andando a controllare le immagini sono delle immagini che sono state classificate come predette dagli algoritmi come donne per quanto riguarda invece la categoria education la situazione è opposta perché appunto vengono utilizzate queste label maggiormente per gli uomini sia dell'experimental group che del control group in particolare quella più rilevante è proprio quella di business che è maggiormente assegnata al control group male per quanto riguarda invece le categorie di person description qui possiamo analizzare un po' meglio gli altri label che sono ad esempio boy, girl, man e woman e notiamo che tutte queste label hanno delle occorrenze sia negli uomini che nelle donne infatti facendo un'analisi un po' più approfondita si è notato che in alcune immagini ci sono entrambe ad esempio le etichette di woman e man per un'immagine di una donna o di boy and girl per un'immagine di un ragazzo la stessa cosa anche se con meno anche se un po' meno diciamo accade per l'algoritmo di AWS in conclusione possiamo dire quindi che ci sono delle differenze nelle predizioni sia di genere che di età tra i due gruppi in particolare le predizioni di genere ci sono dei risultati molto più bassi per le experimental group male quindi per gli uomini con sindrome di Down per quanto riguarda invece l'età il risultato più importante è quello che viene attribuita un'età dei range di età di bambini a delle persone invece adulte e dell'experimental group quindi soltanto per le persone con il sindrome di Down per quanto riguarda invece le etichette che vengono assegnate dagli algoritmi non ci sono delle particolari differenze tra l'experimental group e il control group però si sono notate delle differenze più importanti tra i generi in conclusione vorrei condividere una frase che ho trovato durante varie ricerche in cui appunto dei ricercatori dell'IPM mentre costruivano un dataset che appunto si chiamava diversity in face dicono che la sfida della diversità potrebbe essere risolta costruendo un dataset che contenesse le immagini di tutte le persone che abitano nel mondo e quindi questo diciamo porta una riflessione su quanto è possibile realmente creare un dataset che includa tutte le sfumature delle diversità facciali in questo caso dell'uomo oppure sarebbe meglio fare una riflessione sulla tecnologia e in particolare sull'utilizzo di determinate tecnologie in questo caso appunto del riconoscimento facciale soprattutto delle applicazioni che hanno nei giorni nelle applicazioni moderne io vi ringrazio grazie Fabiano molto interessante volevo inizio io con una domanda e poi se ci sono domande anche via chat da chi è connesso o da chi è più presente le prendiamo e discutiamo hai trovato siccome questi sono strumenti quelli che hai testato commerciali e quindi c'è anche una certa c'è una porzione di segreto industriale su come sono stati costruiti hai trovato però informazioni su quali sono stati i training set usati per questi tool per i modelli usati da questi tool no non ci sono assolutamente nessuna informazione sui dati che vengono utilizzati per fare il training solitamente viene scritto dataset privati o dataset personali ma non ci sono assolutamente informazioni riguardanti di immagini o le persone e niente e neanche su come quelle siccome alcune di queste etichette sono particolari neanche su chi su come sono state scelte quelle etichette sul processo di annotazione è stato seguito sulle etichette no l'unica cosa che c'è c'è una definizione per ogni etichetta per l'algoritmo di Clarify che è appunto una definizione standard ad esempio di Beautiful ora ci sono le documentazioni su quell'algoritmo di descrizione di tutte quante le etichette però non viene specificato come perché sono utilizzate per nella fase di training grazie c'è Lia Morra collega del dipartimento automatico informatica che vorrebbe intervenire prego Lia ciao a tutti grazie della presentazione molto interessante io avevo due domande barra osservazioni la prima riguarda il task che avete scelto perché alla fine mi sembra di capire non avete analizzato un task di reidentificazione ma di una situazione che si porta dietro tutta una serie di problematiche perché comunque stiamo parlando di classificazioni che già sono diciamo anche da un punto di vista etico messe in discussione cioè penso che anche una persona probabilmente avrebbe più difficoltà per dire l'età e il sesso biologico di una persona affetta da disabilità e la seconda riguarda l'osservazione riguarda la scelta del dataset di controllo perché da un certo punto di vista non mi stupirei se quel dataset di controllo facesse parte del dataset di training degli algoritmi che avete utilizzato sì allora per quanto riguarda la prima domanda appunto no non abbiamo fatto un lavoro di reidentificazione ci siamo soffermati sulle caratteristiche sulle features che venivano appunto predette prima anche perché non avremmo potuto fare un lavoro di reidentificazione non sapendo anche il dataset di training e per quanto riguarda la seconda la seconda è vero è un'ottima osservazione sinceramente non ci avevo pensato prima però con il fatto che non viene specificato appunto il dataset con cui viene trainato sarebbe stato comunque difficile trovare qualcosa che non contenesse immagini già utilizzate per il training mi viene in integro dicendo spunto da questa osservazione di LIA che probabilmente una versione migliorata del control group sarebbe usare la stessa tecnica usata per costruire l'esperimento al gruppo quindi fare dello scrapping casuale randomico dal web con tutti i limiti anche etici che ha questa pratica e fare un control group totalmente come dire completamente diverso ecco da quelli dei famosi dati che sono usati ecco grazie LIA grazie no immagino che comunque non è facile nel senso che devi mantenere comunque la stessa distribuzione del tuo gruppo sperimentale quindi non può essere un capone totalmente randomico e il fatto che comunque sia su internet significa che è molto probabilmente finito in qualche data set di training prima o poi quindi la verità è che non avrebbero raccoglierle ad hoc e quindi diventa obiettivamente complicato però è sicuramente un aspetto su cui uno si deve sempre interrogare perché non è mai facile trovare un protocollo sperimentale diciamo che con le risorse economiche di IBM sarebbe stato più facile costruire un baffo sempre di questo tipo vedo che Antonio Sant'Angelo sta scrivendo in chat ed è arrivata la domanda e la leggo vorrei chiedere a Fabiana di commentarci un po' più sulla slide sulla bellezza l'avvenenza dei soggetti riconosciuti dagli algoritmi non ho capito se si giudicano più belli avvenenti soggetti affetti a sindrome di Down e comunque su che basi opere il vostro giudizio se andate a guardare i voti taggati in questo modo grazie Antonio che ricordo essere un aspetto di semiotica che ha lavorato parecchio sulle etichette date dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale lascio rispondere a te quindi sulla prima perché parliamo di differenze tra persone con sindrome di Down in realtà vedendo i risultati si vengono più utilizzate queste etichette beautiful cute fine looking per le persone con sindrome di Down le basi su cui operano questo giudizio sinceramente non le so non vengono specificate ho fatto un po' un'analisi nel senso che sono andata a vedere alcune immagini che venivano etichettate con con queste label anche solo per curiosità e alcune di queste soprattutto mi sono soffermata in maniera particolare su quelle della label sexy erano appunto principalmente donne molto truccate sia per il control group che per l'experimental group però su tutte le altre non so nel dettaglio non ho fatto questo tipo di analisi più approfondita ecco di niente grazie a lei grazie di nuovo Antonio vediamo si sta scrivendo ancora Lia vediamo se ci sono altre o altri commenti mi chiedevo sempre rimanendo su questa questione del giudizio estetico se non si ha anche poi il modo in cui vengono scelte certe immagini che vengono pubblicate su internet perché io ho provato a cercare Down Syndrome su Google e comunque sono tutte immagini che sono spesso costruite per mettere in evidenza gli aspetti diciamo determinati aspetti della persona per rendere diciamo per cercare di far venire le persone incontro alla disabilità e quindi sicuramente sono anche un po' confezionati in un certo modo sì sì ma infatti io poi non ho voluto fare un'analisi più dettagliata o comunque entrare più nello specifico proprio perché magari potevano esserci molti più fattori a determinare i risultati quindi non sono andata troppo nello specifico ecco e a voi una domanda che sta scrivendo innanzitutto grazie per la presentazione per il lavoro sicuramente fondamentale per fare un primo passo per risolvere questo tipo di problemi ma ed albios e l'altro servizio immagino siano coscienti del fatto che il loro modello funzioni male in alcuni casi o ad esempio questo caso specifico ma rendono da qualche parte non lo so nelle note le pack chiaro che effettivamente il modello non funziona bene per alcune allora loro non parlano di funzionare male dicono semplicemente di stare attenti a come vengono utilizzati questi servizi e quindi di non utilizzare specifico ad esempio per il riconoscimento di genere che loro si basano sull'apparenza ma di non utilizzare questi algoritmi per prendere delle decisioni importanti e cose del genere non fanno comunque riferimento a casi specifici ad esempio siamo resi conto che l'accuratezza è bassissima no altri sì ci sono altri algoritmi di cui non ho trattato sì alcuni scrivono altri hanno anche deciso di eliminare ad esempio la predizione di genere oppure non forniscono etichette però questi due no Clarify assolutamente niente non specifica niente credo che è arrivata un'altra domanda di Antonia se vuoi la leggo come vuoi allora se la leggo che problemi sociali si possono immaginare se un algoritmo di riconoscimento facciale riconosce meglio l'immagine di una donna affetta da sindrome di Down rispetto a un uomo allora diciamo che ci sono tante applicazioni la prima che mi viene in mente potrebbe essere anche quella delle applicazioni di innanzitutto di sicurezza ma non tanto per la differenza tra donna e uomo ma proprio perché magari se si va a identificare una persona e si sbaglia già dal genere identifichi una persona totalmente diversa e anche per quanto riguarda ad esempio ci sono molti casi di sicurezza in aeroporto in cui si ha il riconoscimento delle ci sono delle applicazioni adesso non in Europa però in America penso di riconoscimento di una persona in aeroporto e quindi sbagliare il riconoscimento avrebbe delle conseguenze sulle persone però non più per una questione di se viene usato per la sicurezza in generale non solo per la differenza che si ha tra il riconoscimento tra donna e uomo penso grazie a lei forse c'era lì anche voleva ancora dire qualcosa o no ho visto che si scriveva stava scrivendo ok grazie mille allora grazie Anita che mi hai un attimo sostituito direi che mi sembra che non ci siano altri interventi e quindi io ringrazio di nuovo chi è intervenuto e chi si è collegato per 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 l'incontro ringrazio di nuovo Fabiana per per la disponibilità e complimenti per il per il lavoro che alla fine hai fatto hai fatto tu e vi do vi do l'appuntamento al prossimo evento di Nexa che sarà mercoledì di di Nexa buona giornata a tutte e a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti